sono molto contento di come stiamo lavorando matteo renzi non arretra anzi si mostra soddisfatto per come si sta evolvendo la crisi politica all'interno dell'esecutivo al senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152 ha detto il leader di italia viva i suoi durante l'assemblea dei parlamentari divi si tratta di una sorta di rivincita contro chi lo dava già per vinto pare infatti che i numeri a palazzo madama non siano dalla parte di giuseppe conte il premier rischia di non raggiungere una maggioranza assoluta con la conseguenza che il governo pur salvando si sarebbe molto debole dal punto di vista politico noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del palazzo ha continuato renzi non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti l'assemblea di deputati e senatori renziani si riunirà di nuovo domani sera grazie a tutti grazie a tutti